buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo un monocolo short focus è un monocolo che va a focus sia da lontano come è normale che sia ma anche da vicino permette di focalizzare fino a 30 centimetri è utilizzato per ipovisione per osservare oggetti che non si possono raggiungere quindi può essere utilizzato per osservare da lontano al poligono per view watching osservazioni in natura in montagna oppure da vicino se devo guardare un'etichetta non posso raggiungere non mi posso avvicinare abbastanza un acquario dove non mi posso avvicinare una macchina che sta funzionando non mi posso avvicinare posso utilizzare questo strumento è un 6x è molto compatto pesa 65 grammi tutto compatto tutto insieme ha una bella cordicella per il trasporto da tenere sempre al collo per maggiori informazioni ecco il link al nostro sito www.elettronicadidattica.com buona giornata e grazie www.elettronicadidattica.com www.elettronicadidattica.com www.elettronicadidattica.com